Quoddam Ubique, quoddam Semper, quoddam Abomnibus Creditum Est. Siamo nel 1977 e Dario Argento dirige Sospiria. Allora, Sospiria è un horror fondamentale perché rappresenta per Argento il film del cambiamento. Si passa dal giallo thriller anche con elementi parapsicologici di profondo rosso e si fa il salto nell'horror puro e definitivo. Quindi è una storia horror che però conserva ancora qualche elemento giallo tipico del suo cinema. E ad esempio, il particolare rivelatore che il protagonista della storia non riesce a cogliere, nei gialli argentiani succede sempre questo, il protagonista vede qualcosa che non riesce a mettere a fuoco in un primo momento e che poi alla fine sarà la soluzione del mistero e anche in Sospiria c'è questo elemento. Abbiamo questa giovane ragazza americana, Jessica Harper, che arriva dagli Stati Uniti nel vecchio continente, in Europa, in Germania, a Friburgo per perfezionare i suoi studi di danza, va in questa accademia di danza all'interno della quale succederanno delle cose molto, molto strane e pericolose. E nel momento in cui lei arriva sotto una pioggia abbattente, vede una ragazza disperata che sta fuggendo e grida delle frasi che chiaramente noi non riusciamo a cogliere, perché il volume è chiaramente abbassato, è sovrastato dagli effetti della pioggia, eccetera, eccetera. Quindi le parole, queste frasi che dice questa ragazza non vengono colte, ma torneranno nel finale e riveleranno il mistero. Quindi, elemento classico del giallo argentiano che ritroviamo comunque anche in questo film horror. E poi tutto il film in realtà è sì un horror, una fiabba nera, spaventosa, sospita un film veramente pauroso, è un film che non si guarda impunemente e non lascia indifferenti. Anche dopo tante e tante revisioni, poi per chi come me l'ha visto da ragazzino a 10-11 anni, per la prima volta penso che sono film che comunque ti segnano. Non nascondo che ancora oggi, alla mia veneranda età, quando di notte devo affacciarmi a una finestra, e quindi avvicino lo sguardo al vetro della finestra, lo faccio ancora con una certa circospezione, pensando all'omicidio di Eva Axen e Susanna Javicole, che probabilmente nel cinema italiano, e forse non solo, è la scena più bella di omicidio mai realizzata. C'è questa povera ragazza che fugge dall'accademia, si rifugia a casa di un'amica, ha un piano altissimo, perché prende un'ascensura che la porta chissà dove, quindi ha un piano altissimo, e poi lei si affaccia dalla finestra, e quando si avvicina dalla finestra sbuca un braccio che rompe il vetro, e la spinge con la faccia contro il vetro, per poi ucciderla tremendamente, con una serie di coltellate e pugnalate in petto. Si vede addirittura la scena del cuore che batte e che viene trafitto dal pugnale, da questo coltellaccio che trafigge il cuore, e poi la ragazza muore impiccata, sfondando un lucernario, quindi siamo proprio all'ultimo piano, o probabilmente la ragazza fugge su interrazzo, questo non è ben chiaro. Comunque quando sfonde il lucernario, alla fine finisce impiccata da questo cavo, è una cosa che forse nessuno ha notato, quando rimane impiccata, rimane praticamente con i piedi a distanza del pavimento, di circa 50 centimetri, quindi anche la lunghezza del cavo che l'ha impiccata, era a misura, perché praticamente lei scende, sfonda il lucernario, precipita, poi resta impiccata, e tra i piedi e il pavimento, rimangono circa 40-50 centimetri, quindi precisione millimetrica, e la sua amica che stava scendendo giù per chiedere aiuto, viene colpita dalle schegge di vetro, insomma, del lucernario, e quindi muoiono entrambe. Tra l'altro si favoleggia che le macchie di sangue sul pavimento vadano a comporre l'immagine di una strega a cavallo di una scopa. Non è una cosa tanto peregrina, sinceramente, però forse è una forzatura, però guardandola con attenzione può esserci del vero, forse non è una leggenda metropolitana, forse non è neanche voluta, e chi lo sa, potrebbe essere uno di tanti misteri di questo film. Alla fine comunque siamo di fronte a un horror, è chiaro che nessuno può sfondare il vetro di una finestra a un piano altissimo e stare fuori dalla finestra e uscire col braccio, quindi è chiaro che l'elemento soprannaturale c'è, però comunque la costruzione del film è sempre una costruzione gialla, perché all'interno della scuola dell'Accademia di Danza Jesse Carper fa amicizia con Stefania Casini e insieme le due scopriranno il mistero che poi alla fine, insomma, è il segreto di Pulcinella, alla fine lo sanno tutti, che in Sospiria si parla di stregoneria, quindi all'interno della scuola di danza c'è una congrega di streghe che ruota intorno a una regina nera che sarebbe Elena Marcos e c'è Alida Valli, Joan Bennett, un giovanissimo Miguel Bosè, Barbara Magnolfi, Flavio Bucci, il pianista cieco che fa una brutta fine perché osa mettersi contro le streghe, insomma, è chiaramente un horror strutturato e molto pauroso, però ci sono gli elementi del giallo classico argentiano, gli omicidi all'arma bianca con questi pugnali, rasoi, quindi, e poi il finale, eccetera, eccetera, insomma, lì è chiaro che poi l'elemento sovranaturale si svela nella sua magnificenza, soprattutto nel finale. Io sono convinto che Argento, più di un'occhiatina a un film del 69 di Narciso Ibagnez Serrador, gliel'ha buttata e sto parlando degli orrori del liceo femminile, ovvero La Residenzia, questo è un film spagnolo del 69, dategli un'occhiata e vedrete se non vi ricorda qualcosa in Sospiria. Vabbè, non c'è niente di male, voglio dire, però è una curiosità. Sospiria, quindi, è un horror meraviglioso, per certi versi, paradossalmente, disneyano, perché c'è un uso dei colori con il Technicolor e la fotografia di Luciano Tovoli, che andrebbe studiata nelle scuole di cinema, una fotografia da Oscar assoluto, perché con l'uso dei colori, con lo sviluppo e stampa del Technicolor, si potevano completamente eliminare uno o più colori e caricare di più un colore rispetto a un altro, quindi è tutto un tripudio di rossi forti, di verde, di blu, ma soprattutto di verde e di rosso, quello rosso fortissimo, rosso-verde, questi colori talmente forti, i colori fondamentali, che praticamente sembra di assistere a un cartone animato in Technicolor della Disney e la protagonista Jessica Harper con questi occhioni da cerbiatta sembra quasi un manga giapponese, quindi elementi di cartone animato in un certo senso ci sono, chiaro che il film poi è terrorizzante, spaventoso, quindi c'è ben poco da ridere, ben poco per bambini, anche se l'idea iniziale di Argento era quello di realizzare un film all'interno di un liceo, di una scuola, un'accademia, insomma dove c'erano delle ragazzine dell'età di 10-11 anni, immaginate ragazzine di 10-11 anni che vengono trucidate, accoltellate, o squartate, o impiccate, insomma non era una cosa credo francamente realizzabile, quindi fortunatamente l'età delle protagoniste è stata innalzata, anche se alcuni trucchetti scenografici rimangono, perché le maniglie delle porte sono poste a un'altezza più alta, quindi quando le persone vanno ad aprire queste maniglie sembra che le maniglie siano a questa altezza insomma quasi della testa, come se uno fosse basso, come se fosse piccolo, come i bambini che aprono le maniglie, chiaramente le maniglie sono poste più in alto rispetto a loro che sono bassini, vabbè, queste sono invenzioni, comunque Sospira resta un horror innovativo e fondamentale, scritto da Argento con D'Aria Nicolodi che ha un ruolo fondamentale secondo me nella sceneggiatura, ed è sicuramente un film innovativo che segna il grande cambiamento per Argento che poi esplode definitivamente in quel sommo capolavoro che è il successivo Inferno che secondo me è totalmente inarrivabile. Sospira pone le fondamenta e Inferno completa tutto. Per me si ferma tutto lì, poi dopo La terza madre, la trilogia, per me non conta niente, è una stupidaggine secondo me anche fatta forzosamente molti anni dopo secondo me su richiesta di qualche produttore o dei fan, non lo so, l'idea della trilogia non mi ha mai convinto fino in fondo. Per me Suspiria e Inferno che hanno qualche punto di contatto tanto per il riferimento a Suspiria, Suspiriorum, Mater, eccetera, Friburgo e queste cose qui però insomma sono film secondo me che hanno la loro potenza e sono è un dittico che resta lì e forzosamente si è voluto poi farlo trasformare in trilogia ma secondo me non è stata una grande idea anche il risultato finale non è stato sicuramente all'altezza delle aspettative. Suspiria quindi grande fotografia, grande potenza visiva, Argento si diverte come un matto, dà sfogo tutta la sua fantasia creativa quindi nel film non ci sono mai due inquadrature uguali tranne qualche rarissimo campo e controcampo ma rarissimo giusto qualche scena di dialogo ma pochissimo poi per il resto non ci sono mai un'inquadratura uguale all'altra il film è ambientato quasi interamente in interno sempre di notte pochissime scene diurne ne ricordo solo una col bambino Albert che viene aggredito dal cane lupo il piccolo Jacopo Mariani tra l'altro era lo stesso bambino di profondo rosso Carlo da bambino e un'altra scena diurna con Udo Kier Jessica Harper Rudolf Schindler che parla insomma della seconderia sono le uniche due scene girate in esterno e di giorno poi tutto il resto è tutto in interno tutto di notte è tutto con questi colori queste pareti minacciose che a volte sono rosse a volte sono verdi queste finestre gialle questi colori insomma fortissimi che sono la caratteristica fondamentale del film e lo rendono unico così come unico lo rende la musica i goblin che ritornano richiesti fortemente da argento dopo il grande successo clamoroso di profondo rosso i goblin che qui addirittura sono completamente scatenati allora la colonna sonora di Suspiria è una colonna sonora innovativa sicuramente da vent'anni avanti sono convinto di quello che dico con delle trovate sonore credo che i quattro ragazzi Morante Simonetti Pignatelli e Marangolo non so che cosa si calavano in quel periodo ma hanno fatto cose turche urla frasi di Simonetti incomprensibili bisbigli rantoli witch ogni tanto si ripete questa parola witch ovvero streghe che poi come dicevo essendo quasi un giallo il fatto che vi siano le streghe è praticamente una cosa che si svela soltanto a 20 minuti dalla fine più o meno perché fino a quel momento si può anche pensare che ci sia un misterioso assassino che va in giro a ammazzare ste ragazze che magari scoprono qualcosa che non devono scoprire lo stesso fatto che Stefania Casini a un certo punto cerca di convincere Jessica Harper a seguirla perché lei sospetta qualcosa ma chiaramente la ragazza è intontita da un vino e da alcune diciamo alimenti che le hanno le hanno fatto mangiare insomma una dieta particolare alla quale l'hanno sottoposta e che quindi la assordisce né non riesce a seguire le parole della sua amica che a un certo punto dice Susi tu sei niente di streghe e quando dice streghe il volume dell'audio si abbassa in modo tale che la parola non sia perfettamente intelligibile e quindi ti lascia ancora il dubbio che magari siano streghe non siano streghe cioè Argento gioca molto in questo film e si diverte tantissimo dicevo dei goblin il tema principale è fondamentalmente un arpeggio che si ripete all'infinito un carillon diabolico è sempre uguale sempre uguale sempre uguale è una cosa martellante che ti entra dentro e nel film è praticamente abusatissimo poi ci sono le scene in cui ci sono le percussioni timpani di marangolo scatenato e come ho detto urla eccetera eccetera ma diciamo che tutto l'album di Suspiria nel film è secondo me poco sfruttato perché a parte il tema principale un altro paio ci sono all'interno del disco della colonna suonata di Suspiria ci sono due brani i due primi brani del lato B del vinile Black Forest e Blind Concert che sono due pezzi Prog eravamo nel 77 che il Prog era ancora abbastanza vivo in Italia non come nei primi 70 ma insomma ancora qualche 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 gruppo Prog reggeva ancora il colpo sono due brani bellissimi musicalmente sono i due brani più belli della colonna sonora ma nel film non ci sono incredibile cioè Black Forest la foresta nera che poi è la caratteristica di Friburgo e Blind Concert sono due pezzi che tra l'altro sono anche collegati insieme nel disco ma nel film non sono presenti scelta strana perché io gliele avrei inseriti vabbè quindi film fondamentale abbiamo detto musiche incredibili vogliamo parlare di Argento aggiungiamoci un'ultima cosa su Argento che abbiamo detto si è divertito tantissimo in questo film Argento compare in tre occasioni in questo film questo immagino che lo sappiano un po' tutti la prima volta nella scena del taxi quando Jessica Harper arriva all'aeroporto prende il taxi sotto questa pioggia battente il tassista lei gli dice l'indirizzo dove vuole essere portata Escherstrass lui non sente lei gli mette il bigliettino sul vetro divisore col bigliettino scritto Escherstrass e in quel momento c'è un lampo che squarcia il cielo e dietro la testa del tassinaro alle sue spalle nel vetro divisore compare la faccia di Dario Argento che urla e fa pochi secondi però si vede chiaramente poi seconda apparizione nei corridoi dell'accademia di danza della Tanz Academy vediamo una figura nera con un mantello sulle spalle il capello un po' lungo a caschetto come li portava Argento in quel periodo che cammina in questo corridoio di spalle a un certo punto si gira di profilo e per un attimo si vede che è proprio lui prima che il montaggio stacchi su un'altra sequenza come si vede chiaramente che è lui terza apparizione quasi anche questa subliminale quando Jessica Harper è all'esterno e sta parlando con Rudolf Schindler praticamente su una vetrata di fronte si vedono i due riflessi che stanno parlando e poi si vede dove sta parlando del professore sulla sinistra si vede proprio Dario Argento seduto che sta osservando compiaciuto i due che stanno chiacchierando sempre riflesso in questa vetrata quindi anche qui Argento insomma si è divertito ad apparire un po' alla Hitchcock questi camei sparsi così lungo il film anche un po' subliminali allora veniamo all'on video e qua c'è da parlare parecchio quindi mettetevi belli comodi a parte l'edizione in videocassetta della Rentis ricordi io ho anche una ristampa vivi video che adesso non ho qui con me ma ce l'ho a casa di mia mamma comunque videocassette di varie edizioni anche se il master era sempre lo stesso invece in DVD la prima edizione che ho preso è stata questa edizione bellissima della Anchor Bay americana ci sono tre dischi c'è il DVD con audio italiano naturalmente region free poi c'è un secondo DVD con un documentario di un'ora e mezza bellissimo con intervista a Nicolò di Egoblin tutto in italiano stupendo e poi c'è anche il CD con la colonna sonora questo si apre al libro qui c'è il CD e il DVD da quest'altra parte invece si apre e ci sono cartoline un libricino un'edizione bellissima la prima edizione chiaramente americana perché in Italia abbiamo dovuto aspettare abbiamo dovuto aspettare il 25 annale del film quindi il film del 77 nel 2002 è uscita la prima edizione in DVD di Suspiria che io comprai immediatamente figuriamoci Suspiria non lo volevi comprare subito vado a mettere il disco nel lettore i titoli di testa in inglese vabbè bel messaggio 5.1 devo dire home theater che lavora bene però a un certo punto arriviamo alla scena madre in cui Jesse Carper si trova di fronte alla regina nera a Elena Marcos distesa sul letto e lei parla e la voce non si sente perché in fase di messaggio 5.1 hanno totalmente troncato una parte del dialogo di Elena Marcos che dice sei l'americana ti aspettavo e parla per parecchi secondi e noi vediamo Jesse Carper terrorizzata rumori di ambiente colonna ma non sentiamo la voce della strega erroraccio incredibile e nel finale non ci sono i titoli di coda una scritta fine una cosa obrobriosa infatti mi ricordo quando comprai questo DVD ci rimasi malissimo dopo un po' di tempo questo uscì per la CD Fox dopo un po' di tempo però uscì quest'altra edizione sempre in DVD due dischi questa è la migliore edizione in DVD italiana che esiste perché ha corretto tutti gli errori dell'edizione precedente contiene due dischi perché sul secondo disco c'è il documentario di un'ora e mezza del DVD Anchor Bay quindi è sostanzialmente un copy and colla però bellissima edizione con due dischi molto molto bella cartonata bellissima quindi abbiamo titoli di testa in italiano oh titoli di coda originali e poi soprattutto il dialogo di Elena Marcos di Pristinato quindi si sente la voce della strega finalmente oh bellissimo quindi col DVD siamo a posto aspettavamo il Blu-ray puntualmente la Eagle ci fa uscire il Blu-ray eccolo qua abbiamo il Blu-ray di Suspiria prima edizione benissimo vado a mettere il lettore e che hanno fatto un'altra volta l'errore nel messaggio togliendo la voce di Elena Marcos non è mai possibile cioè torniamo indietro invece di andare avanti un'altra volta lo stesso errore quindi la voce di Elena Marcos non si sente poi cosa più grave la colorimetria è totalmente sballata il film non so per quale motivo non so che cosa hanno combinato comunque il film è tutto solarizzato cioè tutti quei colori neri i verdi profondissimi diventano tutti blu quindi molte scene solarizzate a parte che si mangiano i fondali e sulle pareti dell'Accademia di Danza ci sono dei disegni molto importanti i fiori cose che alla fine saranno fondamentali non si vedono perché sono mangiati dalla luminosità e quindi la profondità di campo non c'è più quindi tutti quei dettagli sullo sfondo non si vedono è chiaro se tu spari molto il bianco vai a perdere il dettaglio quindi c'è poco contrasto e addirittura c'è la scena che precede l'omicidio di Stefania Casini che poi finisce nella stanza dove c'è il filo di ferro a un certo punto alle sue spalle lei viene aggredita si vede per un attimo una mano con un rasoio nell'edizione originale se uno ha l'occhio molto attento nel buio più profondo si scorgono due occhi giallastri alle sue spalle ma si scorgono cioè le mie sono molto attenti a vederli in questa edizione invece solarizzata si vede proprio la persona vestita tutta di nero con questi due occhi gialli che sta lì ferma immobile pronta a colpire e non si dovrebbe vedere non si dovrebbe vedere perché rovina l'effetto sorpresa quindi è chiaramente un errore nella fotografia del blu ray nel grading insomma in quelli che poi alla fine hanno portato a questa edizione mi ricordo ci fu una grandissima polemica sul forum di AF digitale e ci fu un responsabile della Eagle devo dire molto coraggioso che venne a giustificare l'operato della casa di produzione dicendo no ma voglio il film è così il master è così anche il direttore della fotografia Luciano Tovoli ha provato il master grande palla una palla colossale non è assolutamente vero tant'è vero che poi Tovoli invece ha supervisionato il vero il vero restauro del film molti anni dopo ma non questa edizione qua nell'occasione del quarantennale è uscito Sospiria in 4k al cinema e che fa non te lo vai a vedere sono andato a vederlo al cinema in 4k e mi sono anche comprato il successivo blu ray ricavato dal master 4k un'altra delusione allora il film Sospiria oltre ai colori qui almeno sono stati rispettati una cosa che ho notato in 4k vedendolo al cinema ci sono delle scene fuori fuoco chiaramente avendolo sempre visto prima in altre edizioni non me ne ero mai reso conto ma ci sono delle scene fuori fuoco quando Eva Axen entra nel palazzo anche nella scena di Flavio Bucci nella piazza di Monaco insomma ci sono dei fuori fuoco che però credo siano degli errori di regia se vogliamo che però prima del 4k io non me ne ero mai accorto non me ne ero mai reso conto ma ci sono e comunque in questa edizione in 4k la potenza della musica dei Goblin e il successo del film fu dovuto proprio al fatto che Argento spinse al massimo il volume cioè la gente doveva uscire dal cinema stordita confusa dalla baldore dalla musica dai cari dalle percussioni dalle urla dagli stridori dai rantoli tutte queste cose che alla fine dovevano spiazzare confondere lo spettatore praticamente fargli fare un viaggio quasi allucinante nel film e quindi il volume sparato a palla nei cinema dell'epoca lo so perché ho letto insomma delle vecchie recensioni dell'epoca nel master 4k che ho visto al cinema hanno fatto un messaggio mono ragazzi ma io non lo so qua invece andare avanti andiamo indietro eppure sul blu ray c'è il mono audio praticamente gli effetti sono stati aumentati gli effetti i rumori ecco non mi veniva i rumori sono stati incrementati e il volume della musica è stato abbassato cioè una cosa scandalosa il film perde tutta la sua potenza il suo impatto la sua forza la perde del 60% più della metà tranquillamente quindi un'altra edizione per me non ha l'altezza cioè capito tu di un film quante edizioni ti devi comprare alla fine per arrivare a quella giusta cioè noi i polli compriamo perché siamo appassionati io per primo vabbè non per tutti i film perché se no dovessi fare per ogni film praticamente andrei sotto i ponti quindi cerco sempre di essere un po' oculato nelle scelte però quando è un film che ci tengo particolarmente esce un'edizione dico ah cacchio questa me la compro speri sempre che magari sia migliore della precedente adesso non è che te le compri tutte però insomma edizione in 4k uno pensava di avere di fronte all'edizione definitiva tra l'altro i titoli di coda sono stati rifatti elettronicamente non sono quelli originali con la scritta avete visto sospiri e ideali bruttissimi concludendo arriviamo però all'edizione finalmente definitiva ah ed è questa qui questa qui riprende il master americano della sinapse supervisionato da Luciano Tavoli ah e qui abbiamo la vera fotografia non quello proprio tendente al blu luminoso tutti con qui bianchi sparati assolutamente inguardabile e quindi questa edizione qui pubblicata poi dalla dalla videa giusto videa esatto questa qui è l'edizione che vi consiglio in blu ray perché sicuramente è la migliore quindi quante sono 1 2 3 4 5 6 ma e dire che pur amando sospiria molto non è proprio il mio film prediletto però è un film importante un film che mi piace tantissimo e quindi vabbè per adesso siamo bene così eh ragazzi non mi fate uscire altre cose in mente perché non è che siamo qui a comprarci tutto e poi forse bestemmierò in chiesa ma a me mi è piaciuto pure il sospiria di guadagnino non sono un talebano irriducibile l'ho trovato un buon film non è sospiria chiaramente c'ha lo stesso titolo ma non è sospiria è tutto un altro film ed ha una sua dignità artistica e mi è piaciuto molto però questo è un altro capitolo un'altra storia e non non ci riguarda comunque chi non si è visto sospiria penso che siamo in pochi a non averlo fatto penso che debba rimediare quanto prima e poi dopo questo grande film Argento decide di scendere all'inferno e firma il suo autentico capolavoro horror scusate se è poco